Allora io sono marcus cron e benvenuti in un nuovo video di mark of the ninja dobbiamo far esplodere questo impianto per far prendere fuoco a tutta la casa in modo che le guardie diciamo non la casa ma magari tipo che ne so la struttura meglio ma scusate una piccola imprecisione rimettiamoci qui quando parlo è meglio non andare a giocare a briscola con le guardie intanto berrò intanto che ci passa l'individuato lì in alto a destra e dicevo dobbiamo attirare l'attenzione da un centro delle guardie ovviamente a questa zona di abitazioni avevo ancora mezzo biscotto in bocca olè voilà zà 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 signore la sua insalata è servita quel tale rompe i guli allora andiamo qua sotto ta 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 il cobra non è uah eee la ottimo spryme sembrerebbe perfetto oh my god quella presa spira l'aria non ho letto che cosa devo fare perdonatemi però immagino che è di qua oh cazzo bisogna far riuscire a far diffondere per tutte le ah il dobbiamo far passare il gas tre dovrebbero farlo ma ottenere più farà una grande distrazione allora oh no 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 non devo andare sul laserone quel tale sta lì che dorme vieni qua vieni qui dai chissà cosa è successo ok e ci nascondiamo attenti al laserone se no esce qui un mega fucilone che rompe i book e qui dove mi nascondo porca non posso farcela ah devo rompere questo qui ok allora dobbiamo usare control andiamo 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 qui spara però l'ho rotto l'ho rotto giuro giuro l'ho rotto io sono innocente vostro onore o io sono un ninja vostro onore allora così 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 allora ciao Q dobbiamo provare no perché brutto maledetto mi sono nascosto così perché mi va di volevo diventare un vaso mi hanno detto che avrei sarei potuto diventare qualunque cosa e così porca ah ok perché non posso sparare più dardi oh ma perché va 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 vabbè quando c'è il bloccatempo dove siamo sono su un tetto era preventivata questa cosa si immagino di si wow un artefatto ok tutto sto casotto per per l'artefatto mi ha dato più 500 punti spuzzolosissimo essere immondo ah no però forse posso salire ho davvero dei problemi enormi con i controlli di questo gioco ok si posso salire allora ah vabbè ooo non aprire quella porta cazzo no dai di nuovo tutto no cavolo t'ho fregato vabbè vedi qua non si può andare fatemi andare a rivederti qui a rivedere le stelle ma le ho rotte no 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 dai risiediti no non ti risiedi non ti risiedi non ti risiedi BAM SUTTO PFFFF molto bene ok 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 anche questo anche questo hmm aia aia abbiamo i sensori aia ci vedrà ci vedrà no perchè io sono una pianta no cazzo ho sbagliato sbagliato è incredibile vai 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 uccidilo uccidilo hop calcio on the face calcio e casca per terra oh vabbè bruschetta per tutti io sto premendo tasti a caso comunque ragazzi c'è oh cazzo c'è non so dove sto andando non è stato molto chiaro si c'è qualcuno probabilmente è arrivato un massaggio è love che mi chiama di qua di qua olè cazzo c'è il cane ah ma quello ci vede accidenti allora dovremmo attirare l'attenzione come facciamo ad attirare l'attenzione la macchina del rumore no cazzo cazzissimo tan 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 ci vede ci vede ci vede no perfetto ok chi è che sta sniffando no il cane ragazzi aspettate devo far fuori il cane voilà no mi sta davvero sulle balle what si ok sono una vipa sono una vipa in questo gioco va bene la vedete avete ragione però non capisco dove sto andando cos'è questo si ah queste sono le prese d'aria ma va a cagare va ma va a cagare va c'è tutto sto casino io davvero mi sono perso andiamo qua su tan 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 il rotolo recuperato no non c'è niente in cui io possa aggrapparmi ok merda cosa cazzo faccio ah si 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 vabbè giusto facciamo cazzo quantomeno sto Buddha Buddha è incredibile allora mi devo ricordare che si spara con Q posso ok grazie e e poi subito Q immagino Q Q Q ho detto ma porca la puttana e dai ah 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 Cristina davena Q non uno provo sempre uno ma che cazzo mi sta chiamando love aspettate un attimo ok sono pronto ho telefonato a Nuba Nuba è nel traffico c'è scappato il morto ma vabbè e io non riesco a scendere da qua allora questo l'abbiamo distrutto questo l'abbiamo distrutto pompiamo alla stragrande e olè due su tre che sono le cose svelto prima che capiscano le nostre vere intenzioni molto be- no però qua mi dovete dire come faccio scusa aspetta ah ah no come faccio scusate eh oh oh no frittura vista accidenti no 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 non ci provate eh non ci provate neanche non ci pensate neanche io voglio soltanto entrare qui dentro no di nuovo tutto attaccato dai ma devo rifarlo davvero devo rifarlo davvero no ma voi siete impazziti completamente ah due su tre ok no è un checkpoint allora allora qua sopra io direi che potremmo provare a fare così porco ok a fare a fare così ok ok oh mio dio chiuditi 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 ma sarda di merda ok 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 sì sì aspettate un attimo ma disattivando questo disattivo i laser qua sopra ma va a cagare che c'è qua eh la sfida no è il potenziamento ho tre questo è sei questo che fa è un calcio per eseguire un calcio da tante scagliere in terra del nemico in realtà io già lo faccio però no non lo voglio non lo voglio operazione completata sì ok no 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 scusate io voglio ah 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 casco cazzo voglio la bombola fumogena ok sì sono soddisfattissimo oh perché non posso prenderlo attraverso la grada io vorrei prenderlo attraverso la grada lo prendiamo attraverso la grada porca oh che cazzo stai a fare mazzo ok ok non giocherò mai più a nostri del team vita mia oh ma che cacchio ninja oh guarda oh che figa che figata che figata che figata vieni qua wow so sru patoo arrivederci voglio buttarlo oh è cascato davvero comunque ok ok sì fantastico sono un ninja sono fichissimo cosa c'è da quest'altra parte eh un artefatto ok molto bene e se vado di qui che cazzo sto tirando uh la mina no me la riprendo grazie non voglio tirare la mina voglio tirare questo aha questa era la stanza precedente col condotto 1 posso passare e niente tocca rifarcelo ragazzotti che vi devo dire ok perfetto riapriamo qua e adesso vedrete MK rimorire in delle maniere sì sì lo so oddio ho paura paurissima che è questo? ah un artefatto ok siamo pronti siamo caldi oh 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 chiudi oh ce l'abbiamo fatta no non ci credo tutto sto casino per cosa? porca puttana e allora devo andare davvero qua sotto mi riprendo la mina grazie devo andare davvero qua sotto o forse no no ehm ragazzotti qualcuno mi dica cosa devo fare per favore perchè non corre sto tizio? oh eccolo qua se non è qui se non è là se non è su se non è giù dove minchia devo andare? qua eh sì allora ciccetto vieni qui ok cos'è che bipa? boh fammi un po' una bipa di qua voilà no non guardare su vai a cagare ok tan 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 MK non è molto silenzioso neanche letale che palle questo cane di merda no lo voglio uccidere voglio uccidere tutti dovete morire avete rotto il cazzo oh sì sì no non voglio prendere questo sì va bene va bene va bene non sono un ninja oh come sei? ma cazzo mi hanno sentito tutti dobbiamo raggiungere il tetto ok ok cazzo perchè ho fatto rumore? very strange di qua che dice che sto nel cassetto? allora noi attiriamo l'attenzione di qua no e il tizio viene di qui che palle mmm sali su? non guardarmi come faccio? come faccio? che faccio? gli tiro una mina? gli tiro una mina qua ma non volevo tirarla lì oh my god datevene ah ok c'è un passaggio eh un gong andiamo alla sfida ok ok oh my god stanza delle sfide ad ogni passo in avanti corrisponde uno all'indietro ok ok questo è il metodo migliore per risolvere questo indovinello ragazzi mi raccomando ok 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 no e volevo questo non quello oh santa pace ma sei un burto bambino qui ok ho notato che se non lo evidenzio bene eh guardate vedete così guardate va sopra bastardo ok così proprio così eh non è che magari ho capito un po' di imprecisione e di qua di qua di qua e di qua di qua e ah no l'aera e ok disattivato cosa dai noi intanto andiamo qui ok si è riattivato quello eeeh oh 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 ok quasi disattivato questo qua così ma l'ho spento sto fregno si ok dovrei andare di qua posso andare di qua vediamo ok no Interessante Molto interessante Ma qui Ok questo non ci aiuta molto E anche saltare E comincia davvero ad essere stanco Facciamo così Ok E E O si attiva qua sotto va bene Poi dobbiamo andare a constatare cosa fa Questo qui Vediamo un po' Ha disattivato qualcosa là sopra Va bene E riattiva qua ma non cambia assolutamente niente Quindi dobbiamo tornare indietro Molto semplicemente Riattivare questo Attivare questo Che listio Stavo per fare Vediamo un po' se riattivo questo Perfetto No 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 C'ero c'ero ragazzotti C'ero Maledetti controller di verda Ok Allora e Il Pompelmo Dopodiché frutta e verdura Scenderne Disattivarne Scenderne di nuovo Scendere qui Cliccare bene qui Anche qua Su per giù Destra sinistra Salgo nel centro Ok E E Adesso Oh Or dunque Adesso Miei cari Cosa posso fare Per disattivare Per disattivare Tutta la questione Va beh Ho rotto Una cosetta Ah eccolo E E No sono un nabbo Sono un cazzo di nabbo Dai su Che palle Mh No 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 Ah 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 Ma che ninja dei miei coglioni Porco giuda Ok No Non ti spogliare Ti prego Ningino Gigi la trottola No Ok Ok Torniamo indietro Con molta grazia Elegantezza Clicchiamo sui tasti giusti Nel momento giusto Perché oggi combattiamo Per tutto ciò Che ritenete giusto Su questa terra Sì beh Terra bella Su questa bella terra Io vi invito A resistere Uomini Dell'ovest Disse così Aragorn Di Zaratustra E Di qua Di qua Spendi Accendi Piano Porca puttana Piano No Non ci credo Sono due Ah no Vabbè Posso farlo Aspettate No No Pesci Stavo pensato a dire Per cliccare lì Ho visto lui Che andava con la testa Controllare Sì ha detto No Ce l'abbiamo fatta Ragazzotti Ma sì Cazzo Sì Oh mio dio Oh Sì Sì Oddio Stavo per morire Tipo Sì Rodolo Guarda Non ti dico Tutto Di mette Rodolo Perché Da Allora Se io Corressi Non mi sentirebbe Nessuno Se io invece Gli tirassi Un dardo No Sì Non c'è più nessuno Eh What's that What's that What's that Woo Perfetto Sarei un silenziosissimo ninja Adesso No Cazzo Via Olè Ragazzotti Che cosa abbiamo fatto Perfetto Ne mancano quattro ragazzotti Io vi sollustro Ci vediamo Nella prossima puntata Ciao a tutti Ciao a tutti